Oh, ma non temere. Riuscirò a trovarla. E con me sarà davvero al sicuro. Vedi, io sono finalmente riuscito a scoprire la verità sul Death Stranding. Eh, non immagini neanche quante cose non sapete. La ragazza, per esempio, non è come te o me. Le Dooms non le interessano. Preferisce di gran lunga la distruzione su scala mondiale. È un'entità estuttima. È difficile creare connessioni se non puoi stringere mani. Per fortuna ho una forte connessione con l'aldilà. E tu? Non sei certo un ponte. Io invece ho legami con tutto quanto. Con questo mondo, con l'altro mondo e con il nostro piccolo angelo della morte. Sei nel menù. Non serve altro che una minuscola voragine per spedirci tutti quanti al creatore. Beh, che ne dici? Non ti sei stancato di questo andazzo. Non è forse...